Incidente davvero molto sexy per la bella Yvonne Shaw, la attrice, ex di Non Era Rai e protagonista di molte più film, da infelice e contenti dei miei parenti a stasera a casa di Alice di Carlo Cardone, fino al film Il Nascondiglio di Pupi Avati, il famoso regista italiano. Yvonne, infatti, a 47 anni d'età, portati davvero bene, c'è da riconoscerlo, avrebbe sfilato al film Festival di Los Angeles, insieme al famoso fotografo americano David LaChapelle, il quale, per farle uno scherzo, avrebbe iniziato a stuzzicarla e le avrebbe alzato il vestito, fino a farla cadere per terra insieme a lui. Il risultato sarebbe stato che i fotografi presenti in blocco avrebbero immortalato la intera scenetta, avrebbero verificato con i loro occhi che Yvonne non avrebbe utilizzato la biancheria intima, sto utilizzando il condizionale, dunque non avrebbe indossato le mutandine, la figuraccia hot sarebbe stata servita su un piatto d'argento, come anche le immagini proposte da oggi avrebbero testimoniato. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, questo video non vuole assolutamente vedere la prevasi di una bellissima e buon show, questo video vuole solo informare eventuali persone rispetto alla prevasi altrui di questa situazione che si sarebbe venuto a creare. Ho sempre utilizzato le condizioni, quindi ho ipotizzato che sarebbe accolto questo, ma non ne sono certo al 100%. Grazie, un saluto a voi tutti.